tre grafici a confronto oggi tutti di lungo periodo tutti che riguardano quelli che sono dei chart del mercato delle cripto ma non direttamente appartenenti a criptovalute bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un gioco di parole in realtà sono tutti appartenenti a criptovalute ma sono chart macro ragazzi quindi total market cap delle criptoanalisi ciclica soprattutto è un punto importantissimo che potrebbe effettivamente indicare area di topping area di massimi dopo questo balzo lo vedremo in questo video faremo anche altre cose ci andremo anche a constatare quella che è la dominance di bitcoin e in ultima analisi il nostro super mega grafico di nasdaq contro bitcoin che aveva ragione ha indicato in effetti il ciclo annuale nuovo da novembre lo ha indicato in tempi non sospetti perché è un grafico composto un grafico di spread ve ne riparlo in questo video ma prima 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 di andare avanti ci sono delle cose da fare e cioè la prima ma iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché se vi iscrivete al canale e bitcoin continua il pump l'ho detto ragazzi questa è una bastardata perché in questo modo siete costretti insomma ci sta dai poi tiro di nuovo la moneta perché ha portato un po' di fortuna negli ultimi periodi vediamo che cosa fa era meglio va bene detto questo passiamo immediatamente all'analisi di quello che è la total market cap della DeFi volevo farvi vedere un po' questo grafico perché non è collegato al singolo andamento di bitcoin che in questo momento è molto forte già ve lo anticipo ragazzi lo vedremo anche con la dominanza ma è un grafico che ci dà una situazione complessiva di quella che è la struttura del mercato delle cripto in generale di quello che è successo nel bear market e se effettivamente anche su questo grafico stiamo andando a invertire quel famoso ormai livello di 25.000 e 26.000 a proposito avete visto anche ieri nella giornata di quotazione il balzo di bitcoin ma non è andata ancora perché ha breccato il livello ma poi è tornato indietro la chiusura della giornata non ha confermato il breakout quindi il breakout non è avvenuto anche perché il breakout è un livello molto importante come 25.500 e 26.000 su bitcoin ve l'ho anticipato più volte dovrà avvenire almeno in conferma daily ma poi servirà anche quella weekly perché è un livello che riguarda 6-8 mesi di quotazione e non serve semplicemente oscillarci su e giù questo è un concetto che si chiama rumore di fondo dei mercati concetto che gli amanti di statistica o chi ha studiato conosce alla perfezione allora andiamo a vedere dove sta però questo stesso livello sulla total market cap della criptovalute e come vedete vi ho messo la close grafico time frame weekly la close in questo caso guardate dov'è è a 1.172 trillion ed è abbastanza lontano perché in realtà questo grafico ancora non si è neanche avvicinato a questo livello è vero è invertito il trend perché le medie mobili che in questo caso sono quelle un po' più classiche ma dovremmo utilizzare ecco queste due le medie mobili sono in fase vedete la media mobili a 6 mesi è in fase di giravolta diciamo così perché il grafico è salito al di sopra vi faccio uno zoom ma ancora una volta la media mobile annuale cioè quella rosa un po' più colorata sul rossiccio non è stata breccata dal mercato ci ha provato in questa settimana vedete anche la total market cap della DeFi ha provato a fare questa cosa ma non è riuscito a breccarla solo il superamento di questo livello stancisce in prima analisi una inversione del presente bear market ma poi avremo bisogno di una conferma effettiva il superamento di 1.172 quindi 1.2 trillion per quanto riguarda la capitalizzazione totale del mercato delle cripto questi grafici a cosa servono ragazzi servono ad avere una idea generale più smussata di quello che è l'andamento dell'intero settore non guardando la singola cripto perché la singola cripto bitcoin stesso che ovviamente ragazzi è chiaro che il 50% di questo grafico è bitcoin quindi lo fa bitcoin l'altro 20% lo fa ethereum e poi sparpagliati tutto il resto delle cripto quindi in sostanza è più o meno un indicatore un grafico che miscela ethereum, btc poi bnb e qualcosina però in linea di massima dipende da pochissimi titoli perché i mercati delle cripto sono ad alta concentrazione di capitali nelle top 5, top 10 delle criptovalute però in generale smussa un po' fa un concetto che è quello di evitare che le oscillazioni ad ampia volatilità si ripercuotano poi su quella che è l'analisi di natura tecnica o l'analisi di natura ciclica quindi vediamo un po' meglio quelli che sono gli andamenti li vediamo in maniera più lineare ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordarci che questo grafico è zavorrato da tutta la porcheria di scam, di cripto inutili, di progetti senza senso che fanno parte comunque del mercato quindi è zavorrato è come se noi vedessimo bitcoin ed ethereum siamo zavorrati da quelle che sono porcherie infinite anche se in poco di poco perché ovviamente hanno capitalizzazione ridicono e no rispetto a loro però un po' è la zavorra del mercato allora cosa significa? se qualcuno di voi si è mai allenato facendo qualche VOD di crossfit oppure di allenamenti funzionali belli tosti, belli aggressivi e io li faccio ancora ragazzi ma sto un po' invecchiando da questo punto di vista sono un po' rotto allora cosa succede? succede che quando si ha la zavorra e si tira la zavorra e si riesce comunque ad arrivare a determinati livelli di resistenze a breccare a rompere i propri livelli con la zavorra allora a quel punto vuol dire che si è molto forti che quando poi la zavorra la buttiamo via la liberiamo siamo potenti possiamo fare le cose molto meglio siamo più forti ed è il vero senso di guardare un grafico del genere che ci dice che se noi andiamo a vedere un grafico così un grafico che brecca questo livello 1.2 trillion significa che bitcoin, ethereum e in bella compagnia le top 5 barra 10 escludendo le stablecoin chiaramente sono forti ragazzi e questa forza si vede perché hanno trainato l'intero mercato compresa tutta la zavorra superando i livelli di resistenza quindi il senso è molto chiaro superare questi livelli ci proporrà l'idea di aver superato la fase di bear market allora è per questo che guardiamo questi grafici c'è però un'area che io vi ho già cerchiato che è un'area temporale non è un'area di prezzo cioè non guardiamo quello che è il livello di prezzo adesso i livelli di prezzo secondo me li possiamo andare un po' a calcolare utilizzando i livelli di fibonacci ma questa è un'area temporale che potrebbe indicare un massimo di periodo perché poi verso maggio-giugno dovremmo avere una zona di riposo respiro del mercato che potrebbe anche essere un po' cattivella ragazzi perché sarebbe la chiusura poi del ciclo semestrale non è facile parlare a distanza di molti mesi e soprattutto sapete bene che non si può prevedere il futuro ma possiamo utilizzare quelli che sono gli strumenti analitici e di statistica per avere una idea di probabilità di questi scenari finora l'anno 2023 è un anno top insomma stiamo facendo veramente i numeri giganti perché abbiamo individuato tutti i livelli di snodo del mercato è andata molto bene da dicembre in poi ma questo ovviamente non potrà continuare all'infinito quindi sbaglieremo lo sapete ragazzi non c'è soluzione a questo però fintanto che ci stiamo ragioniamo di probabilità allora la probabilità che questo grafico così come anche Bitcoin e Ethereum che sono collegati a questo grafico faccia un'area di topping intorno ad aprile o massimo fino aprile-eprile di maggio c'è allora io ve lo dico questa è un'area di natura temporale in sostanza dalla messa appunto di questa fase di marzo dopo questo rimbalzo il mercato deve accelerare il tempo stringe deve accelerare e deve andare a breccare questo livello 1.2 trillion poi in settimana prossima lo vedremo anche indicato su Bitcoin che comunque sono 25-26 mila ormai lo avete capito ma deve breccarli chiudendoci sopra in close settimanale in close daily e deve accelerare al rialzo quali sono i livelli di target che si possono raggiungere se andiamo a guardare questo grafico possiamo farlo utilizzando quelli che sono i livelli di Fibonacci qui tra le altre cose ci rendiamo conto della vera vera difficoltà del mercato dell'ecritto perché i livelli di ritracciamento di Fibonacci del precedente bear market che è stato terrificante ragazzi sono lontanissimi cioè il mercato stenta anche a raggiungere soltanto il primo livello di Fibonacci lo 0.23.6 che è un primo livello di ritracciamento che solitamente nei mercati è di poco conto cioè quasi insignificante perché i ritracciamenti di Fibonacci che hanno valore sono 0.5-0.6 e un po' lo 0.38-2 quindi quei tre centrali anche se poi ci sono diverse strategie che si possono costruire anche per esempio con lo 0.78 che io adoro come livello però sono strategie di trading quelle questi però livelli di ritracciamenti sono i livelli di ritracciamenti più importanti qui il mercato addirittura stenta a raggiungere il primo che è un livello di tracciamento che si ha anche in un semplice rimbalzino per farvi capire come il bear market cripto è stato denamente difficile lo scorso anno stendo che comunque ragazzi 1.24 primo livello che il mercato potrebbe proprio raggiungere in questa fase di up per poi andare a fare la famosa chiusura che vi dicevo se il mercato dovesse essere molto molto reattivo la prossima settimana perché per questa settimana secondo me abbiamo già dato ragazzi ci sono altre diverse analisi che stiamo condividendo in academy diverse strategie nuove che si basano sulla volatilità e ci indicano che in sostanza i giochi sono fatti anche per questa settimana le usiamo per il trading settimanale questa zona qui può essere tranquillamente raggiunta ma se il mercato la prossima settimana volesse effettivamente spingere tanto potremmo anche avvicinarsi avvicinarci a questo ulteriore livello di fibonacci c'è poi un livello invece di natura tecnica che è il minimo della partenza del ciclo del bear market che il ciclo del bear market è partito il 21 luglio il 12 luglio 2021 la settimana del 12 luglio 2021 e ha fatto anche i massimi storici però poi questa è una struttura ciclica che è tutta la struttura del bear market quindi l'arrivo a 1.3 trillion potrebbe essere abbastanza semplice questa zona qui vedete appunto cerchiata il prolungamento su questo livello è difficile in questa fase secondo me però tenetene conto allora questo che vi sto dicendo vi indica che per aprile potremmo in effetti avere questa fase di app che però deve essere intanto confermata dal breakout di quei livelli che ancora oggi ragazzi tengono bloccato bitcoin avete visto la difficoltà di un livello tecnico e quanto l'analisi tecnica vi ha indicato un livello di prezzo che sta mantenendo i prezzi di bitcoin delle cripto in generale anche della total market cap al di sotto con quanta difficoltà quel prezzo non si muove nonostante le notizie avete visto quanta roba eppure l'analisi tecnica vi ha indicato mesi fa un livello di prezzo stra importante che comunque ancora funziona a un livello di resistenza se è breccato poi diventerà un supporto e questo ci darà un grande vantaggio quindi aprile mese importante ma settimana prossima e fine mese di marzo ci indicheranno anche la forza di questo movimento deve accelerare e questo è importante lo vediamo dalla total market cap della delle cripto che è un indicatore vi ripeto zavorrato questo significa che qualora questo indicatore arrivasse qui a quel punto avremo in ogni caso un bitcoin e un ethereum molto molto forti quindi poi di questo ne dovremmo tenere conto andiamo a vedere allora quella che è la struttura che lega un po' bitcoin al resto delle cripto perché alcuni si stanno già domandando ma allora posso andare a squicciare sulle criptovalute perché non hanno dato quanto bitcoin è il momento giusto di fare questo lo accenniamo poi dedichiamo un video intero a questo argomento però oggi volevo farvi vedere un accenno a quella che è la la dominance però poi mi interessa anche mostrarvi il grafico di nasdaq quindi questo lo accenniamo ragazzi poi faremo un video dedicato proprio a come decidere di squicciare quelle che sono le posizioni da bitcoin ad altre cripto qui la dominance di bitcoin è inchiusa in una super barra di congestione dal maggio del 2021 non ha mai breccato questo livello chiave ragazzi questo livello chiave molto importante perché la dominanza è un indicatore derivato una chart derivato un grafico derivato perciò significa tutto è il contrario di tutto insomma mi spiego bene cioè dipende da come guardate il bicchiere perché questo indicatore deriva dalla forza di bitcoin rispetto alle altre cripto quindi può essere che bitcoin sia fortissimo oppure che il mercato crasha e le cripto sprofondano e bitcoin sprofonda di meno quindi come vedete concettualmente guardare la dominance non deve indicarvi se i prezzi salgono o non salgono quello che deve indicarvi è semplicemente i rapporti di forza tra bitcoin e il resto delle cripto non usatelo per prevedere andamenti di rialzo dei prezzi o meno ma usate per capire se vi conviene stare su bitcoin o su cripto poi bisogna usare la chart di bitcoin per capire se vi conviene stare sul dollaro bitcoin questa è un'altra questione quindi in questo momento trend is your friend è quello che mi sento di dirvi perché poi dedichiamo un video proprio a questo grafico a capire come farlo funzionare per decidere quando andare in cripto e no trend is your friend il trend è di breve rialzista di medio e lungo in barra di congestione ora un punto di arrivo in questa zona che è la zona vedete che fa il topping di bitcoin che va in sostanza dalla 47 al 49 per cento di dominance questa area qui è un'area di topping di questa fase di range ranging diciamo così quindi congestione solo il breakout di questi livelli ragazzi da qui in poi sancisce l'inizio di una nuova fase di app di lungo periodo per la dominance e qui poi dovremmo interrogarci su quello che vi ho detto sale perché bitcoin va in pur run o semplicemente perché crasha tutto e bitcoin è l'unico che regge allora qui c'è tanto da fare ma ancora vi ricordo che questo grafico è fortemente fortemente dipendente dal rapporto ethereum btc ed ethereum btc io lo sto seguendo perché ha una close come vi dicevo nell'ultimo video stratosferica maggio giugno ed è maggio giugno che scattano una serie di strategie di cui parleremo ragazzi quindi questo è un anno importante io ve lo dico da dicembre poi non mi venite a dire nell'eventuale prossima burranna ah però l'ho scoperto in ritardo e quello sta a voi gestire queste cose vabbè scherzi a parte andiamo a vedere il graficone btc usd us 100 che sarebbe nasdaq 100 scusate che ha iniziato la fase di breakout questo grafico ancora una volta è un lead indicator cioè è un grafico che è interessante vedere sta breccando il livello un po' pochino vorrei vedere un bitcoin che chiude questa settimana più su di questi prezzi attuali in maniera tale da darci un bel breakout di questo livello vi metto il livello in close perché questo è il livello molto importante in quanto ci dà il primo segnale che tutta la fase del bear market rapportando bitcoin al nasdaq termina e siamo in una nuova fase e ce lo indica prima come già ci aveva indicato prima che era iniziato il nuovo ciclo annuale sembrerebbe ancora una volta indicarci un po' prima tutti quelli che sono queste queste fasi per esempio guardate anche la media mobile a un anno quella a 52 settimane e insomma la sta breccando proprio in questa settimana quindi attenzione perché qui già abbiamo un'anticipazione di quello che potremmo vedere probabilmente nelle prossime settimane proprio su bitcoin bene detto questo abbiamo fatto un briefing generale della situazione di lungo periodo siamo andati ad analizzare quelli che sono i pricing trend is your friend non ve lo dimenticate a meno di strategie intraday di trading stretto ragazzi lo short non è menzionabile come vi dico da dicembre perché siamo in una fase di recupero di bitcoin e dei mercati cripto quello che è menzionabile sono strategie short io su bitcoin non faccio short sulle altre cripto sì ma non è in questo momento non lo sto facendo perché non sto facendo intraday se fate intraday trading e di breve periodo quindi 2-3 giorni ci potrebbe anche stare ci sono tante cripto che potrebbero darvi soddisfazione anche al ribazzo per il resto mi raccomando per chi di voi vuole essere bello tranquillo trend is your friend ma io una domanda ve la faccio per chiudere questo video vi ricordate il video dove abbiamo parlato di cosa doveva fare l'holder nel 2023 cioè comprare su una dip intorno ai 20.000 21.000 dollari e poi andare a dormire fino al prossimo anno lo avete fatto perché il mercato e il prezzo ve l'ha dato però i treni non passano sempre giusto ciao a tutti ragazzi grazie a tutti